Allora, questa sera il mio intervento verterà su pietre, montagne e dei nella cultura giapponese. Quindi tratterò delle pietre, ma naturalmente non le pietre nel senso dei sui secchi, ma le pietre in generale. E poi le montagne che di fatto sono delle grandi pietre. Tratterò due temi, perché il tempo a disposizione è limitato. Quindi da una parte, il primo argomento, le pietre e gli dèi, ossia le pietre santificate, le pietre sante in qualche modo. E poi le montagne e gli dèi, cioè le montagne sacre. Questi due argomenti. Inizierei intanto con il primo, anzi scusate che provo a fare... Aldo, in alto trovi la presentazione, se tu la attieni... ecco, grazie. Così si vede anche meglio, ma ci vedo meno bene io però, perché... Scusate, ecco, così va meglio. Allora, le pietre e gli dèi è il primo argomento e riguarda soprattutto ovviamente la religione autoctona giapponese, cioè lo sintoismo, per cui gli dèi sono questa presenza invisibile, maestosa, potente, che ispira rispetto, ma anche paura e anche attrazione. Qualche cosa di ancestrale in qualche modo e di molto potente. E lo sintoismo è la religione, diciamo, autoctona, molto viva, ancora oggi, e che ha un rapporto particolare con la natura. Lo sintoismo è il modo di rapportarsi alla natura. Potremmo così veramente sintetizzare questa, chiamiamola, religione, che ha una grande quantità di dèi, di spiriti e così via, e cioè che lo sintoismo è come rapportarsi con la natura. E il rapporto corretto con la natura è quello di essere puri. La natura è pura e quindi anche l'uomo, quando si rapporta alle forze della natura, ai kami, agli dèi, se vuole rapportarsi in modo corretto, deve essere puro. Di qui viene uno dei riti più comuni, più osservabili, anche quando si va in Giappone, che è il rito della purificazione o harai. Questo è che vedete nell'immagine, appunto, è un rito di purificazione dove si sventrano questi rami di un albero ritenuto sacro. Kami si riferisce, Kami sarebbero gli dèi, si riferisce in particolare a fenomeni che ispirano un senso di meraviglia e di stupore. I kami possono risiedere nelle cose, ma alcuni oggetti sono particolarmente adatti ad accogliere questi dèi. Questi luoghi o questi oggetti che ricevono lo spirito degli dèi si chiamano Yorishiro, cioè luoghi e oggetti che sono ritenuti manifestazione o residenza degli dèi, o anche Shintai, che sono gli oggetti in cui gli dèi risiedono. In particolare possono essere pietre, cinisci, montagne, alberi, cascate, eccetera, tutti elementi della natura che in qualche modo colpiscono l'essere umano. Fin dall'antichità alcune pietre erano considerate sacre perché erano, come dire, sedi degli dèi ed erano detti Ishigami, cioè pietre dèi. Ishì e pietre, Kami, Gami sarebbero gli dèi. Di questo ne troviamo già tracce negli antichi testi mitologici del Giappone, come il Kojiki, lo Hizenfudoki, Nyorioki, va bene, nel Fudoki si narra di una pietra che procurava la pioggia quando era oggetto di preghiera e così via. Quindi tutta una serie di miti che hanno a che fare anche con le pietre. Non solo con le pietre, ma anche con le pietre. E queste pietre dèi erano considerate come delle forze positive, per esempio questa che procurava la pioggia o altre cose di questo genere che portavano dei benefici. E il loro potere straordinario è da una parte temuto e al tempo stesso però anche oggetto di venerazione ed era oggetto di protezione in qualche modo. Per esempio ci sono, dopo le mostre erode, le pietre che erano chiamate Dosogin. Sono pietre sacre che si mettevano nelle strade, agli incroci, all'entrata dei villaggi per protezione, perché avevano i maligni di entrare nei paesi, nei villaggi, per le strade e così via. Questi spiriti maligni che portavano le epidemie. Va bene, però pare che ultimamente non abbiano avuto grandi effetti queste pietre. Erano pietre singole oppure doppie che rappresentavano anche un uomo o una donna e in questo caso erano anche simboli di fertilità. Poi dopo l'introduzione del buddismo furono sostituiti dalle statue di Giso, che era del Giappone, conosci benissimo, dopo ve le mostrerò queste statue di utilizzo. Quindi si passa, come vedete, dallo shintuismo al buddismo. Quindi ci sono delle pietre o degli oggetti della natura che sono sede di kami per lo shintuismo, ma anche in qualche modo per il buddismo. Ecco, questa è una pietra d'osso-jin, vedete? Qui c'è anche un'immagine, se in qualche modo sembra umana o qualcosa di genere. Questa è una pietra d'osso-jin. E poi qui invece sono quelli simboli buddhisti, dei Giso, che sono dei bodhisattva, la protezione delle strade, degli incroci, all'entrata dei paesi, dei villaggi, eccetera, vedete? Qui sono anche in numero piuttosto elevato. Questi sono altri due, questo maschio e questo femmina, e qui c'è proprio scritto d'osso-jin, eccetera. Quindi sono pietre sacre. Tuttavia, le pietre sacre non erano solo benefiche, c'erano anche le pietre malefiche. Un caso molto particolare, molto interessante, che è ancora molto vivo oggi, è la storia del sescio secchio, la pietra che uccide la vita. E che era una pietra che uccideva chiunque, o si diceva che uccidesse, chiunque la toccasse. E quindi qui nasce da una leggenda molto, molto antica, in cui una persona uccisa si è trasformata in una pietra dai poteri malefici, eccetera. E questa è questa pietra, vedete, c'è scritto la pietra che uccide la vita. Questa è questa pietra qua, che ancora oggi è oggetto di... Però questa pietra poi, qualche secolo fa, grazie a un monaco buddista, è stata, come dire, resa inoffensiva, con un rituale particolare. Questo per dire che in Giappone, che noi crediamo essere un paese molto razionale, molto così moderno, eccetera, ha nel suo bagaglio culturale, soprattutto antico, una grande quantità di leggende, di miti, di spiriti benigni, maligni, di fantasmi, di trasformazioni, di morti che portano a terrore, mostri, c'è tantissimi mostri nella tradizione culturale del Giappone, che poi si relazionano, appunto, anche con lo shintoismo, ma anche col buddismo, come, come dire, sistemi di protezione contro queste cose. Ecco, vedete che, come si fa a capire quando una pietra è uno yorishiro, cioè una pietra sacra oppure no? Perché questi luoghi o queste pietre sono circondati dalle shimenawa, che sono delle corde fatte di, si chiamano le spighe di riso, dopo che sono tagliate, e queste pietre sono dette, appunto, iwakura, cioè dove siedono gli dèi, gli dèi stanno seduti letteralmente, oppure che sono in queste pietre, iwakura. Ecco, qui vedete, per esempio, una persona che prega, questa secondo me è una foto bellissima, che prega una cascata dove c'è questo, vedete, lo shimenawa, questa corda tipica che indica, qui c'è il sacro, e poi il gohei, che è un altro segno del sacro. Qui abbiamo le famose due rocce, un uomo e donna, marito e moglie, che stanno legate tra di loro con lo shimenawa, vedete, due piedi, due rocce, molto famose in Giappone, e qui un simbolo dello shintoismo, dell'utori, che è un simbolo del fatto che c'è un kami in quel posto. Ecco, le shimenawa e i gohei sono i simboli del sacro. Questo è il gohei, vedete, questo è il gohei, e questo è lo shimenawa che di solito vanno messi insieme. Naturalmente, queste sono corde fatte di riso, perché in Giappone il riso è in ogni caso importante ed è in qualche modo protetto dagli dè, è qualcosa di sacro. Ecco, qui vedete appunto anche una pietra in un tempio shintoista dove è anche qua il shimenawa, il gohei, questo tipo qua, così, è una pietra particolare. Di queste pietre ce ne sono parecchie, qui adesso ve ne faccio vedere qualcuno con il suo nome, la sua scritta, la sua spiegazione, tutta la storia. questa pietra che è circondata appunto dai simboli del sacro. Qui c'è un kami che risiede qua e qui spiega che è questo kami e così via. Oppure questa anche, vedete, questa è con shimenawa, il gohei, e poi anche questa, questa pietra enorme, scusate, ecco, questa pietra enorme che dice la spiegazione, la pietra spirituale, una roccia spirituale, dice, e qui c'è anche un simbolo appunto shintoista, qui il posto dove mettere le monete, naturalmente, ecco, non manca mai. Adesso passerei invece a trattare delle montagne, le montagne e gli dei. Intanto vi faccio notare che pietra più montagna, questo è il carattere per pietra, questa è montagna, messo uno sopra l'altro, montagna sopra, è esattamente il carattere per roccia, quindi la roccia è una pietra, è una montagna con sotto una pietra, o una pietra che diventa una montagna. le montagne hanno un significato speciale in Giappone, intanto perché sono più vicino al cielo, poi perché dalle montagne viene l'acqua, l'acqua che è indispensabile per la vita nei paesi e città. Il culto delle montagne che i giapponesi chiamano Sangakushiniko, o credo di montagne, è un culto molto diffuso, è molto antico, perché tra l'altro le montagne rappresentano quasi l'80% della massa terrestre del paese, quindi sono dappertutto. Naturalmente la più famosa montagna Sacra che conoscevamo tutti è Fujisan, va bene, Fujisan è da sempre la montagna Sacra per eccellenza se chi la scala quando va in cima trova un tempio sintoista eccetera e la prassi rituale vuole che si parta di notte molto presto che si scali la montagna per arrivare in cima a vedere il sole nascente naturalmente il paese sol nascente sulla montagna Sacra a vedere il sole che nasce. ci sono molte montagne Sacre qui ne citro intanto le tre più famose sono ovviamente il monte Fuji il monte Fuji è il potere del vulcano perché il monte Fuji è un vulcano e quindi è la forza il potere del fuoco poi c'è il monte Haku che invece è il monte sacro dell'acqua perché da questo monte scaturisce l'acqua che poi scende per le coltivazioni del riso nelle pianure e poi c'è il monte Tateyama che è un monte particolare per le pratiche spirituali di cui parlerò un po' più nello specifico subito dopo e il monte Tateyama non è solo sacro per lo Shintoismo ma anche per una scuola buddista che è la scuola della terra pura e anche la sede di pratiche di una scuola buddista Shintoista che è lo Shugendo di cui parlerò dopo ma le montagne sacre sono molte in Giappone per esempio molto famose Haguro-san dopo vi farò vedere qualche immagine Onta-kesan ma anche Kumano e così via ecco qui vedete per esempio questo è Haguro che è una sulla montagna di questo bosco è una famosissima pagoda a cinque piani molto visitata questo è invece il Tateyama forse tra le montagne sacre è quella più alta vedete anche qua il simbolo del Shintoista e questo invece è Kumano sempre in montagna con questa pagoda invece a tre a tre strati Kumano è un tempio anche un Shintoista ma la pagoda ovviamente è buddista e qui vedete la come dire la scalata in una stampa antica al Monte di Tateyama per andare a questo tempio a pregare il Dio che risiede su questo mondo ecco un discorso molto interessante molto importante nel rapporto tra gli uomini e le montagne è il rapporto tra Yama che è la montagna e Sato che è il paese chi è stato in Giappone avrà visto avrà notato penso che le città giapponesi sono tutte in piano anche qui vedete sulla collina montagnola qua abitazioni umane non c'è nessuno è molto raro trovare villaggi paesi casi sulle montagne sono sempre tutte nel nel piano del villaggio sotto la montagna e come in questo caso ho preso questa foto apposta vedete che il tempio Shintoista è ai piedi della montagna cioè al limite tra la montagna e il piano la montagna per i giapponesi è il luogo dove vivono gli dèi il piano è il luogo dove vivono le persone gli uomini e il limitare tra la montagna e il piano è il luogo dove gli uomini possono incontrare gli dèi gli dèi scendono dalla montagna e entrano qua e gli esseri umani dal piano si spingono fino alla falda della montagna e qui avviene l'incontro tra gli dèi e gli uomini dopodiché però gli uomini tornano nel piano e gli dèi tornano sulle montagne la montagna non è abitata dagli uomini è abitata dagli dèi per cui è pericolosa è destinata agli dèi vorrei citarvi questo breve brano dove si dice che nella dicotomia tra yama e sato cioè tra montagna e il villaggio sato e il villaggio è stata una meta confronto il costruito e il selvatico l'ordinato e il disordinato il regno dell'uomo che controlla la natura e il regno naturale in cui l'uomo non interferisce sono due spazi separati ma sono anche due spazi culturali il mondo coltivato associato agli uomini il mondo selvatico la sua antitesi è associato a ciò che non è umano e quindi gli dèi ma non solo gli dèi va bene ma anche per esempio gli spiriti dei morti tutto quello che come dire non è umano sono ecco qua il regno degli spiriti dei morti dei mostri e anche degli dèi vedete che in questo caso la montagna rappresenta non solo gli dèi ma anche ma anche i mostri ma anche i morti tutto quello che ecco è misterioso irrazionale oscuro incomprensibile selvaggio primordiale inconscio disordinato mentre il villaggio è esattamente il contrario e cioè tutto quello che è evidente razionale chiaro strutturato civile voluto conscio e ordinato questi sono i due mondi separati che che hanno sfere diverse ma che cercano in qualche modo con delle ritualità con degli come dire degli schemi prefissati e così via di contattarsi non andare insieme mettersi ma di entrare in contatto perché la natura e gli dèi della natura fanno paura all'uomo pensate in Giappone i terremoti i tifoni i tsunami la natura è terribile e gli uomini che devono sopravvivere devono rapportarsi in modo pacifico armonioso con queste forze della natura per fare in modo che siano benevole verso gli uomini ecco qui vedete un tempio molto famoso proprio su cima della montagna è lo Yamadera queste montagne dove ci sono appunto gli dèi tipici si chiamano Kannabiyama Kannabiyama cioè montagne su cui ci siedono gli dèi o anche gli dèi sono gli Yamadokami questo è molto famoso meta anche di molte escursioni turistiche di Yamadera ecco qui abbiamo dei sacerdoti come vedete molto particolari questi sono gli Yamabushi cioè coloro che vivono e praticano ascesi in montagna Yamabushi vuol dire giacere in montagna nel senso che dormono vivono e praticano sempre sulle montagne e quelle montagne che dicevo prima per esempio l'Hondake il Kumano e quanti altri insomma montagne appunto deificate spiritualizzate dove questi i Yamabushi ma anche altri sacerdoti per esempio shintoisti o buddhisti vanno a praticare perché lì si possono incontrare gli dèi si possono incontrare le forze della natura incontaminate ma non è facile bisogna sapersi rapportare bisogna fare delle pratiche molto severe eccoci gli Yamabushi che oggi tutt'oggi ancora esistono sono erano originariamente dei specie di santoni va bene che circolavano ho finito il tempo sentivo delle voci che mi richiamavano no no Aldo vai pure nessun problema sì scusate erano delle specie di santoni che poi si sono strutturati in una scuola buddista esoterica praticano ancora riti esoterici medicina esoterica e cose di questo genere e la loro idea forse lo vediamo ecco la loro idea è questa cioè che si va in montagna per mettersi in contatto con le idee delle montagne ma anche per un altro scopo ed è una pratica che è aperta anche ai laici e che ancora si fa spesso abbastanza severa e cioè l'attraversamento della montagna la montagna rappresenta in qualche modo un come dire una rinascita la possibilità di andare nel mondo dei morti che è la montagna attraversare la monte dei morti il luogo dei morti per rinascere quando si arriva dall'altra parte sul piano di partire dalla 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 dimensione umana della pianura attraversare questo luogo misterioso in qualche modo morire spiritualmente e rinascere puri mondati di tutti i peccati e tutti i difetti che si hanno venire rinnovati infatti coloro che partecipano a questo rituale vestono di bianco di bianco perché il colore appunto della purezza ma che cosa fanno fanno una pratica molto severa di questo tipo cioè corrono sulla montagna e si mettono parecchi giorni anche una settimana a dieci giorni per attraversare tutta la catena montuosa eccetera e corrono recitando dei sutra corrono recitando dei sutra poi ogni tanto in certi luoghi dove si ritiene che risiedono degli dei si fanno dei rituali particolari si fanno delle preghiere si fanno delle abluzioni è quello che avete visto prima all'inizio che davanti alla cascata può essere uno di questi riti perché per esempio si fanno le abluzioni in inverno in tempo molto freddo nell'acqua gelata e così via e questo ascetismo mondano prende il nome appunto di Shugendo ecco questo è quello che io appunto volevo dirvi credo di avere terminato il tempo sì ho terminato il tempo per ricordarvi che in qualche modo vedete le pietre o le montagne che sono le grandi pietre hanno come dire un valore particolare in Giappone quando poi adesso il collega ne parlerà Merlo di questo dei giardini ma io mi ricordo che quando prima volta andavo in Giappone a vedere i giardini giapponesi ma anche i giardini privati quelli piccoli giardini delle case e così via ero sempre molto stupito perché sono giardini sempre pieni di pietre ci sono tante pietre grezze attenzione pietre grezze perché devono essere assolutamente naturali è abbastanza raro trovare pietre lavorate pietre grezze perché è come i giardini devono essere così che sono in natura quindi non artefatti dagli uomini ecco bene io credo di aver detto tutto quello che devo dire vi ringrazio per l'attenzione poi se avete delle domande volentieri grazie voglio dire no un attimo un attimo un attimo un attimo cercate appunto di non aprire i microfoni se non dovete parlare o intervenire perché ci sono dei brutti rientri soprattutto se avete cellulare ecco voglio capire se le differenze concettuali tra le montagne e chiedo a uno che è nato sotto il monte rosa differenze tra il concetto in occidente rispetto all'oriente della montagna perché anche in occidente è un significato molto molto forte grazie anche in occidente ci sono le cosette montagne sacre Thomas Burton la montagna sacra la montagna scalare la montagna è un come dire una pratica spirituale in qualche modo anche da noi va bene è una pratica anche da noi ma in Giappone è diverso in Giappone è diverso perché la montagna è sacra quindi come dire quando si va sulla montagna sacra bisogna atteggiarsi in un certo modo non si va semplicemente per purificare se stessi no si va a incontrare una potenza che può essere benefica può essere anche però malefica qualche cosa di molto potente e quindi bisogna bisogna stare molto molto attenti questo è una cosa che è molto presente in Giappone ed è un come dire ci sono queste montagne fuggi no perché evidentemente fuggi e si montagna sacra ma insomma ci vanno su tutti ma le altre montagne che sono le vere montagne sacre in qualche modo sono molto come dire rispettate in questo senso sì sì molto rispettate la montagna non è come dire lo strumento per un proprio esercizio anche spirituale come può essere da noi va bene la montagna una vale l'altra se io riesco a andare fino in cima no c'è la montagna che sa che l'altra che non lo è c'è la montagna dove c'è il tal kami che vado a incontrare in qualche modo secondo lei professore mi sente? sì secondo lei oggi il Giappone come fa a conciliare il suo credo shintoista molto radicato con i discorsi che si sentono oggi di scaricare in mare quindi a mancanza di totale di rispetto nei confronti della natura di scaricare le acque diciamo di Fukushima sono molto arrabbiato anch'io sì ci sono il Giappone è un paese di grandi contraddizioni va bene probabilmente in questo caso sono proprio presi per il collo non lo so certo non è una bella cosa ma penso che sono un po' disperati in questo senso però devo dire che ecco il lo spirito shintoista è ancora spesso presente molto presente io mi ricordo di aver assistito a ma anche con Edo a delle cerimonie shintoiste per placare gli dei in un posto dove doveva essere costruita una una casa insomma oppure quando una ditta si apre di fare delle cerimonie shintoiste o mettere un tempio shintoista in pieno a città di Tokyo del angolino dove c'è la ditta eccetera eccetera questa come dire dimensione delle chiamiamole pratiche spirituali in senso ampio si trova ancora molta gente molti giovani anche che come dire aderiscono praticano si interessano e cose di questo genere se uno va per esempio anche nei tempi sintoisti trova sempre parecchia gente che va a pregare eccetera che va anche solo a visitare il tempio per dire una preghiera ma non è che siamo preghieri ma per fare una visita ecco quello sicuramente ma sentire per esempio le persone che ti dicono che la ha uno spirito è molto comune in Giappone dire quella pietra ha uno spirito quella cascata ha uno spirito quella montagna ha uno spirito molto comune grazie si potrebbe si potrebbe Aldo dire che la montagna in qualche modo custodisce un aspetto possiamo dire proprio religioso cioè i cami che vivono nella montagna devono essere rispettati ecco e quindi c'è forse la differenza sta proprio in questo sul fatto che per esempio come dicevi non possono neanche costruire case diciamo per abitare sulla montagna questa è una grande differenza rispetto al nostro modo di pensare al nostro modo di vedere noi pensiamo alla montagna come un luogo forse meno ospitale ma se ci sono migliaia di esempi di case costruite in montagna mentre là no perché viene considerata proprio un luogo sacro e dedicato ai cami quindi insomma agli dei questa è una grande differenza da quello che ho capito è così ma con un'aggiunta però secondo me e cioè che non è solo la questione del rischio per come dire gli spiriti che vi abitano ma anche perché non è sano stare lì può essere anche pericoloso può essere anche come dire non è il posto adatto per per abitare per vivere lì perché ci sono degli spiriti che non sono gestibili ecco che non sono gestibili per cui chi lo sa che cosa può succedere e quindi è meglio come dire avere grande rispetto per i cami grande rispetto ma ognuno a casa sua come si può dire rispetto che non ci si disturbi vicendevolmente e quando quando si disturba qualcuno qualche qualche spirito bisogna chiedere il permesso scusarsi eccetera eccetera ma possibilmente ognuno cioè non c'è commistione c'è rispetto a distanza possibilmente sì ricordo Aldo quando siamo stati nel giardino del maestro Kobayashi che stava edificando la nuova struttura per gli allievi è stata una bellissima come dire cerimonia da parte di questo monaco shintoista non so come definirlo insomma che ha che ha praticato tutta una serie di così ha benedetto la terra il piccone la pala ha fatto insomma è stato molto bello da vedere e appunto mi ha fatto capire l'importanza che questa cosa nella tradizione insomma c'è noi abbiamo perso tutto questo non c'è più insomma però dopo se tu probabilmente se tu gli chiedi al maestro Kobayashi ma tu questa cosa ci credi probabilmente ti dirà di no ma a scanso di equivoci non si sa mai non si sa mai è meglio farlo costerà qualcosa ma non importa è sempre meglio e c'è questo rapporto capito di non si sa mai ognuno a casa sua facciamo tutto quello che si deve fare per non andare a prestare i piedi a forze che magari sono incontrollabili non si sa dove si va a finire ecco questo è un caso tipico sì è un caso assolutamente tipico bene se se non ci sono altre domande per il professor Tollini sì io io passerei la parola a Francesco e casomai poi si può anche tornare indietro tanto Aldo sta con noi stasera fino alla fine quindi casomai se a qualcuno viene in mente qualcosa può farla anche dopo la domanda allora Francesco se vuoi puoi tornare in in video eccoci qua ottimo grande Francesco se vuoi condividere le immagini il powerpoint o quello che hai insomma mi confermi dovreste vederlo io ti vedo e perfetto ci sei parti pure grazie Francesco grazie a voi io prendo il passaggio del prendo il passaggio del professor Tollini che ha terminato dicendo che i giardini giapponesi anche quelli privati sono veramente ricchi di rocce ed è vero di rocce ce n'è un'infinità chi è stato in Giappone o chi anche solo per curiosità ha cercato su google immagini i giardini giapponesi si sarà accorto che la roccia c'è è presente e indubbio che sia un elemento tipico di questo particolare giardino però vorrei parlare del tema delle rocce presenti nel giardino giapponese attraverso tre concetti che sono più che altro relativi al mio mestiere al mestiere della progettazione e realizzazione del giardino quindi quegli aspetti che nel momento in cui ci troviamo a dover gestire a seguito della richiesta di un committente dover gestire uno spazio di ispirazione o tipicamente giapponese beh salta sempre fuori il concetto di significato ovvero il più delle volte si ritiene che se la roccia all'interno di uno spazio di giardino non abbia un significato è è mancante di qualche cosa cercherò in questo racconto che che vi faccio in primis in un escursus velocissimissimissimo rapidissimo sulla storia del giardino di mettere in evidenza come i giardini che reggono nella composizione per il significato delle rocce ovvero i cosiddetti giardini secchi sinonimo anche per noi in occidente dei giardini zen non sono poi la totalità dei giardini che ci sono in Giappone sono significativi certo assolutamente sono importanti sì tant'è vero che sono così diversi dal nostro concetto di giardino che molto spesso proprio in virtù di questa differenza la differenza ci stupisce ci rimane impressa nella mente diventa per noi quasi emblema di giardino giapponese ma non è così il giardino pur sempre fatto di rocce non sempre deve per forza avere dei significati è un po' come se pensassimo che la cucina italiana è la pizza beh non è proprio così certo la pizza la pasta sono importantissimi caspiterina se non caratterizzano la cucina italiana ma pensare che non ci siano le tipicità delle cucine regionali che non ci siano anche le carni il pesce e chissà che cos'altro beh ci toglie una buona fetta una buona parte del potenziale gastronomico della nostra cucina se ci limitassimo sempre a considerare che se vogliamo mangiare italiano non mangiamo la pizza oppure la pasta al pomodoro ecco pur estremizzando e vi chiedo scusa se io di tanto estremizzo ma sono abituato in questa maniera quando tratto il tema ecco su questa certezza cercherò di trattare il tema delle rocce all'interno del giardino quindi sì capire che è importante che in alcuni casi abbiano un significato e il significato regge la composizione del giardino ma il più delle volte la roccia è un elemento che ci permette di ricreare scorci ambienti anche idealizzati di una natura e vedremo come nel corso dei secoli attraverso il breve excursus che farò dapprima forse la natura un po' idealizzata quindi quella che viene raccontata si parla anche di monti immaginari montagne sacre monte sumero quindi anche cose mai viste mai idealizzate ma man mano che passano i secoli e ci avviciniamo ai giorni nostri la natura nei giardini giapponesi soprattutto quelli moderni diciamo dall'epoca meiji in poi diventano veramente riproposizione di ambienti naturale e il giardino viene considerato bello al passo col tempo quasi se la mano dell'uomo non si vede se la mano del niwashi del giardiniere non si vede questo è un aspetto su cui cercherò di dare più enfasi ma ancora più enfasi su un qualche cosa che contraddistingue oramai quello che è il giardino moderno a tutti gli effetti vale a dire utilizzare le rocce nella composizione pur sempre di ambiente naturali a volte molto naturali artificiali perché costruite in contesti architettonici particolari coevi al tempo in cui viviamo e le rocce in questo caso si ricreano degli elementi del paesaggio ma servono a bilanciare l'osservazione a bilanciare la vista sono veramente dei punti volumetrici che ci permettono di mantenere l'attenzione del visitatore verso un determinato scenario e questi sono quindi i tre temi che voglio affrontare con voi questa sera prima di tutto facciamo l'escursus storico quindi galopperò dal 600 al 2000 e cerco di farlo in un quarto d'ora ma faremo un escursus veramente veloce veloce cercando di dare in maniera molto da abstract da bignami da come dire da conoscenza alla wikipedia per intenderci ma focalizzato su alcuni concetti chiari che che contraddistinguono la storia dell'architettura del paesaggio in Giappone partiamo da quello che ha ben raccontato e abbiamo ben compreso da parte del professor Tollini quindi da sempre la roccia è presente è presente e se la consideriamo come spazio sacro in cui il il cami si manifesta e risiede ecco che il cingerlo può diventare nella lettura occidentale la prima forma di giardino perché per l'occidente il giardino è ciò che è definito da una definizione di un'area l'ortus conclusus è definito tale come giardino proprio perché è definito spazialmente rispetto a un altro spazio che è quello della selva quello della natura selvaggia ebbene l'Iwakura nella lettura che possiamo dare anche noi occidentali nella definizione dello spazio è giardino perché è una definizione di un ambiente sacro in cui il cami risiede questo è ancora più evidente nell'Iwasaka che sono veramente degli spazi in cui il cami trova posizione dove anche una pianta sacra ha trovato posizione e la ripiantiamo come ricordo di quella che fu e quindi è assolutamente un ambiente inscritto all'interno di una cordolatura di rocce le rocce ancora nel periodo preasuca quindi siamo ancora prima del 600 d.C sono anch'esse elementi che definiscono uno spazio sacro in questo caso una tomba i kofun sono a volte grandi come li vedete a volte sono veramente mezzi quartieri se guardiamo da una foto aerea Nara ce ne accorgiamo sono delle delle vere proprie montagne al di sotto delle quali c'è la stanza sacra del della della sepoltura e poi sempre nel periodo preasuca troviamo traccia di quello che a tutti gli effetti è il primo giardino e il primo giardino è un luogo di divertimento è un luogo di divertimento dove la costruzione sapiente del paesaggista del giardiniere dell'epoca di sicuro lavorando la terra ma utilizzando le rocce per poter indirizzare il corso del fiume andava a creare un fiume un rigagnolo sul quale veniva fatta navigare una barchetta che portava una tazza di sake e allora il gioco era quello di completare una poesia proferir poesia prima che questa tazza arrivasse ebbene e questa è la prima forma di giardino scritta che troviamo come diciamo come memoria storica del giardino se andiamo avanti nel periodo Asuka quindi poco dopo troviamo citato veramente il primo il primo giardino e questo riporta la presenza di un monte sacro che è il monte Sumeru a volte ottenuto attraverso la sovrapposizione anche di alcune rocce ma è pur sempre un monte sacro all'interno di un padiglione determinato dell'imperatore dell'epoca passa un po' di tempo arriviamo all'epoca Nara e sono questi i giardini che riusciamo oggi a trovare e a studiare grazie agli scavi archeologici quindi non li troviamo più solo perché descritti e raccontati su scritti ma li troviamo perché oggetto di scavo archeologico e se abbiamo la fortuna di visitare Nara e visitare gli scavi archeologici ecco che possiamo pensare di fare due tappe principali a Nara uno è questo ed è il giardino del Kyukusu Inoen che è proprio quel giardino in cui si fa navigare la barchettina con la tazzina di sake che diventa gioco e anche paesaggio perché vedete che è a tutti gli effetti un fiume è un corso d'acqua ben impostato e quello che vediamo oggi è esattamente il frutto dello scavo archeologico quindi vediamo come la roccia fosse già utilizzata nel periodo Nara per definire il movimento dell'acqua e l'altro giardino e questa è la vista che si ha dalla villa dell'epoca e l'altro giardino è quello che viene definito con lago e isole al padiglione est dei grandi scavi archeologici della città di Nara e qui c'è un lago c'è una ricchezza botanica che mai più potremmo immaginare perché negli scavi archeologici sono state anche trovate le banche e semi dell'epoca e quindi si capisce anche la ricchezza botanica di questi giardini e dei colori dei profumi delle fioriture e questo grande lago è ottenuto proprio con l'utilizzo dell'impermeabilizzazione del fondo con dei ciotoli e la gestione di rocce scenografiche che hanno probabilmente anche loro dei significati ad oggi non tutti ben definiti ma c'è una composizione in particolare sul resto di questa villa che mi ricordo bene quando l'abbiamo visitata studiata in occasione del mio periodo così di studio a Kyoto il professor Nakamura metteva particolare enfasi nel riflettere su questa composizione che aveva un dinamismo eccezionale e poteva essere interpretata letta in chiavi molto diverse da una riproposizione del monte Sumeru seletta dal retro a un'idea di animali in corso di rincorsa verso l'acqua se vista ad altre angolazioni e questo per raccontare come queste forme queste prime pietre in questi primi giardini dell'epoca Nara potevano evidentemente avere duplici e molteplici letture soprattutto agli occhi di un osservatore del ventunesimo secolo passiamo ancora i secoli la capitale si sposta a Kyoto a Yan e qui c'è uno stile di giardino che viene a definirsi con assoluta certezza che è il giardino nello stile Shindenzukuri in cui le stampe dell'epoca i manoscritti dell'epoca ancora ci fanno ben evidente ci fanno ben vedere come il paesaggio che viene ricreato ha un qualche cosa di naturale di ispirazione della natura e qui la roccia è evidente perché il salto di quota delle cascate gli scogli che ricordano quasi sempre l'oceano il 99% l'oceano piuttosto che un lago lo specchio d'acqua nel giardino è molto spesso il più delle volte mi sento di dire ricordo della costa oceanica più che il lago Biwa per intenderci ci sono pochi giardini in cui lo specchio dell'acqua è effettivamente racconto di un lago il più delle volte è un grande mare un grande oceano e allora tutte quelle rocce frastagliate che caratterizzano la costa di questo specchio d'acqua all'interno della proprietà del giardino ricordano e evocano degli ambienti costieri tipici del Giappone sempre in questo periodo viene a definirsi un altro stile più tipico dei templi quindi degli ambienti monastici quello precedente evidentemente un giardino del diletto del piacere e della festa il giardino stile Giodo invece è un giardino che è ancora presente lo troviamo in alcuni templi il Gioro Luigi è forse quello più studiato più evidente più rappresentativo di questo stile in cui su due sponde di questo specchio d'acqua di questo grande oceano è posizionata sulle due sponde da una parte la pagoda dall'altra la sala della preghiera questi due luoghi sono connessi visivamente dalla presenza di due lanterne una sulla sponda della stanza della preghiera una sulla sponda della pagoda e queste lanterne fungono da faro da faro per noi per poter raggiungere diciamo la divinità attraverso la preghiera perché guidati dalla luce della lanterna che è prossima alla stanza della preghiera e ancora più guidati da quella che c'è dall'altra parte della sponda in prossimità della pagoda che punta verso il cielo ecco che abbiamo chiara la direttrice che dobbiamo intraprendere con il nostro sguardo e con la nostra mente e con la nostra preghiera viceversa il monaco ci racconta che è anche un segno di percorso all'inverso della divinità che riesce a raggiungerci grazie a questa discesa contraria importante quella composizione centrale che ci permette di rimbalzare lo sguardo da una sponda all'altra se non ci fosse probabilmente il nostro sguardo non sarebbe attratto ad andare dopo oltre la prima lanterna ma si chiuderebbe come prospettiva sul primo fronte invece questa composizione di sicuro facilita il rimbalzo dello sguardo se volessimo vedere leggere qualche forma nota nelle composizioni classiche di alcuni templi che troviamo in Giappone potremmo anche vedere Tsurujima in questa composizione con le due pietre grandi che ricordano le ali e la pietra piccola che ci sta guardando che è il collo e quella retrostante la coda ma sono diciamo di nuovo composizioni che evocano delle forme di animali fantastici come anche la tartaruga ci sono anche altre composizioni come Kamejima oltre alla gru che in relazione alla posizione delle pietre e alla gibbosità della collinetta che è inscritta in queste pietre può evocare la forma di una tartaruga sempre nell'epoca Yan troviamo poi scritto quel manuale quel libro quel ricordo di come dovrebbero essere posizionate le rocce ed è il primo viene considerato il primo lascito scritto sulla tecnica di composizione e se lo leggiamo è interessante notare come sia incentrato su come le rocce devono essere messe per far sì che la composizione ricordi determinati scorci di natura può essere l'ansa di un fiume può essere la cascata può essere come l'acqua scende a rigagnolo oppure diretta e scrosci sopra un lago uno specchio d'acqua quindi è uno scritto che dichiara come ed evidenzia come le pietre debbono essere posizionate per arrivare a un grado di naturalezza evidente all'occhio dell'osservatore passiamo ancora nel periodo Kamakura la storia dell'architettura del paesaggio non evidenzia grandi passaggi per arrivare poi finalmente all'epoca Muromachi quando viene a definirsi quello stile di giardino che è negli occhi di tutti quello delle rocce con la ghiaia per intenderci però è interessante vedere quali sono stati i primi Kare Sansui riconosciuti ed è interessante notare che ad esempio uno dei primi Kare Sansui dei paesaggi secchi non sembri quello che possiamo immaginare ovvero il letto di ghiaia con al centro una bella pietra o sul lato una bella pietra il Kare Sansui era sempre all'inizio soprattutto grande grazie al maestro che l'ha introdotto l'ha definito e che porta a cui si rifà la firma di alcuni templi e di alcuni giardini importanti di Kyoto e Muso Soseki alcuni Kare Sansui sono in stretto dialogo col paesaggio e quindi il Kare Sansui in realtà è quello che è definito dal termine stesso Kare Sansui ovvero paesaggio secco non è necessariamente con un significato ma in primis è l'evocazione la presenza dell'acqua o del movimento dell'acqua attraverso la presenza di un qualche cosa che acqua non è che è la roccia e questa cascata famosissima del Tenryuji è oggetto di molte interpretazioni c'è chi dice che in realtà nei tempi originari era una cascata d'acqua effettiva e c'è chi dice invece che a tutti gli effetti è nata come Kare Sansui quindi come una cascata prima di acqua ed eccola qui quindi oggi percepiamo il salto dell'acqua possiamo immaginare che ci sia l'acqua che salti da una roccia all'altra e scenda e arrivi ad alimentare questo oceano ma non c'è l'acqua e questo è il potere evocativo che ha in assoluto il Kare Sansui un'altra opera di Muso Soseki è il Saiuji quello che oggi conosciamo come Kokedera il giardino del muschio che in realtà è il giardino del muschio oggi perché è abbandonato nel senso che non è stato più curato in termini di gestione degli ombreggiamenti delle chiome e di conseguenza oggi il muschio prolifera proprio perché l'ambiente si è chiuso molto ma tutti gli effetti possiamo immaginare che fosse un giardino alla stregua del Tenryuji come gestione dello spazio c'è sempre il lago le isole connesse da questi percorsi e quello che però è interessante notare è che c'è a monte di questa area d'acqua una cascata che molto probabilmente non aveva in questo caso a differenza del Tenryuji connessioni idrauliche con il con il il lago con questo specchio d'acqua perché è posizionato in un punto dove l'acqua difficilmente sarebbe potuta arrivare effettivamente nell'acqua del lago e di conseguenza è considerata veramente la prima cascata realizzata con la tecnica del Kare Sansui ovvero realizzata con l'intento di dare l'impressione della presenza dell'acqua del salto naturale dell'acqua pur non essendoci alcuna goccia sopra queste queste rocce un altro giardino famosissimo di quest'epoca è il Taizoine opera di di un pittore Kano Motonobu che è considerato maestro dell'arte pittorica del periodo e che si era dilettato anche nella realizzazione del proprio giardino ora questo giardino racconta uno scenario naturale c'è una cascata c'è una sorgente la sorgente alimenta un corso d'acqua è interessante questo giardino perché ci permette di avere anche delle interpretazioni diverse nello scenario naturale perché lo specchio d'acqua non è noto se voluto nell'immagine di un greto secco fin dall'inizio o di un grande fiume in piena che sta proseguendo quindi questa duplice lettura opposta greto secco rispetto a fiume in piena è pieno di acqua e quello che molto spesso affascina anche del giardino Kare San Sui soprattutto quando ha in sé la vellità di insegnare di raccontare qualche cosa in questo giardino troviamo poi anche posizionate nello scenario nello scenario quindi nella quinta scenografica del fiume della sorgente anche delle composizioni che sono poi diventate tipiche di molti templi buddhisti qui vediamo la riconosciamo tutti la tria della pietra principale al centro con le due a destra e a sinistra che ascoltano che sono in procinto di guardare osservare ed ascoltare sempre del periodo c'è un altro giardino Kare San Sui famosissimo che è quello del Ginkakuji addirittura non di rocce grandi ma di rocce frantumate di ghiaia di sabbia che ricorda a tutti gli effetti quello che è lo scenario della baia di Jacone che guarda verso il Monte Fusi quindi ha il richiamo di un paesaggio noto quindi il richiamo all'astrarre il paesaggio è evidente nei Kare San Sui e solo verso la fine guardate anche solo le date del periodo Muromaci quindi verso la fine del periodo Muromaci troviamo un giardino che è nel cuore di tutti come esempio di giardino zen per eccellenza in cui si insegna ma si insegna sempre attraverso una duplice lettura perché questo giardino ce lo racconta anche il Monaco quando andiamo a visitarlo ha un racconto paesaggistico perché c'è una sorgente c'è un fiume c'è un paesaggio montano molto molto tumultuoso come insenature come rigiri di acque questo torrente a un certo punto si allarga ospita proprio perché diventa balneabile navigabile ospita anche una nave una barca fino ad arrivare al grande oceano che è quello che vedete nella parte bassa dell'immagine questo è quindi uno scenario che ha una chiara lettura naturale paesaggistica perché riconosciamo degli ambienti familiari ancor più se siamo giapponesi perché riconosciamo degli ambienti simili a quelli che abbiamo visto fin da bambini o che ci hanno raccontato fin da bambini in questo caso ma è in questo caso quando il giardino buddista il giardino Kare Sansui viene utilizzato nell'ambito buddista del giardino all'interno del tempio ovviamente insegna perché è strumento di insegnamento è uno strumento che nell'epoca Muromaci era utile per poter raccontare qualcosa non è poi così lontano dai nostri affreschi se pensate agli affreschi dell'epoca medievale nostri perché si affrescavano le chiese perché si affrescavano le pareti per poter insegnare un qualche cosa a chi non sapeva leggere a chi non poteva leggere e quindi apprendere dalla lettura ma poteva apprendere attraverso delle immagini il Kare Sansui nei templi nell'epoca Muromaci svolgeva anche questa funzione certo di riflessione da parte del monaco e degli adepti e degli allievi ma era anche un strumento di insegnamento e allora questo percorso dell'acqua è il racconto di una vita dell'inizio della vita tumultuosa che è fatta di tante avventure che vanno a destra e a sinistra ma a un certo punto e qui troviamo anche ad esempio la carpa che nuota controcorrente e ci fa capire che dovremmo andare come dire trasformarci nella fenice e volare ma è un percorso d'acqua che a un certo punto ci porta ad avere un'imbarcazione piena delle esperienze della vita che naviga verso questo oceano ovvero verso quell'angolo giù in fondo di quella cazzura che vedete giù in fondo che è l'albero è un albero sacro un albero in cui è possibile trovare l'illuminazione ma per arrivare ancora a quell'albero vediamo che ci sono ancora due coni due elementi innaturali che ci bloccano nella navigazione e sono quei fremi che ciascuno di noi ha da umano per arrivare all'ascesi e il monaco ci insegna a capire quali sono questi ultimi due scogli che dovremmo superare ecco in questo tipo di giardino è evidente che la roccia la pietra insegna nell'immagine in alto vedete anche quel pineto bianco allevato quella è allevato sopra un'altra surugima un'altra isola gru vedete le due ali le due pietre verticali che evidenziano le ali della gru il codino e laggiù la testa e quasi sempre sul surugima c'è una pianta o un pino bianco un goiomatsu oppure anche un un altro pino quasi mai un pino nero ma anche un pinus densiflora una kamatsu probabilmente a volte si utilizza l'importante è che l'allevamento sia come si suol dire infarleggiadro infarleggero per dare proprio l'idea della leggerezza della gru qui vedete una foto storica che evidenzia come quello che oggi è un setto di passaggio in realtà è un qualche cosa messo relativamente di recente in una fase di allargamento del tempio ma in realtà era vedete il paesaggio dell'acqua che arriva dalla cascata dopo l'ultimo salto di quota diventa navigabile c'è la barca e questa direzione ci porta poi verso l'oceano oggi in corrispondenza di questo salto c'è un passaggio che collega due ali del monastero andiamo avanti negli anni lo stile carezzano sui è sempre più evidente all'interno dei monasteri e qui un addendoto che ritrovo molto interessante che mi ha illuminato quando me l'hanno raccontato e me l'hanno spiegato ora i templi una volta non erano così grandi i templi avevano delle sale di preghiera che erano relativamente più piccole e non di dimensione tale da poter ospitare i pellegrini e coloro che andavano a pregare andavano a sentire gli insegnamenti e di conseguenza c'era sempre una ampia area fronte sala della preghiera che veniva occupata dai pellegrini che stavano in piedi seduti o comunque stavano lì perché non c'era spazio abbastanza all'interno e questo spazio era uno spazio immaginate che veniva calpistato continuamente era a tutti gli effetti una terra battuta ma molto battuta perché i pellegrini e le persone che entravano nel tempio erano veramente tante ma a un certo punto i templi si sono arricchiti evidentemente perché chi è entrato nella casta dei monaci ha potuto portare con sé perché di origine nobile o paranobile ha potuto portare anche dei denari che hanno permesso anche l'allargamento del tempio l'aumento delle dimensioni del tempio stesso con uno scarico di funzione dello spazio esterno che non aveva più la funzione primaria di ospitare il pellegrino in quanto questo poteva stare dentro al riparo e siamo nell'epoca quale? Muromachi Azumi Muromachi cosa va di moda? cosa viene a definirsi? quali sono i grandi esempi? il Tenryuji il Savuji eccetera cosa va di moda? il Kare Sansui e allora lo spazio esterno è stato occupato dal giardino che all'epoca veniva veniva letto come giardino di moda non so quale termine usare diversamente ed era anche un diciamo una una scelta anche funzionale perché non so chi di voi si occupa di giardinieristica e pianta alberi in giro ma piantare alberi in un giardino in un terreno compattato su una terra battuta è un gran lavorone perché bisogna fare degli scassi evidentemente profondi e di conseguenza pensare anche di fare altri tipi di giardini su questi spazi era anche problematico tecnicamente parlando la somma della moda più il limite tecnico non ha fatto nient'altro che evidenziare l'utilizzo di questi di questi giardini che in più avevano un grandissimo potere evocativo perché fatte di rocce e abbiamo sentito benissimo nella presentazione del professor Tollini come la roccia la montagna sia insita nell'animo e nella caduta nell'ascesa dei kami e delle divinità e allora ecco che la somma di tutto ciò ha portato a definire il Kare San Sui come giardino tipico della stragrande maggioranza dei monasteri di questa di questa epoca se notate tutti questi spazi hanno delle porte vicine erano le porte qui stiamo entrando da sinistra qui siamo al rio Angi erano proprio le porte di accesso di quest'area che un tempo era camminata era percorribile e poi è diventata ambiente di insegnamento e di racconto alcuni giardini lo sapete meglio di me sono anche degli indovinelli sono dei racconti che spronano l'osservatore a trovare l'ispirazione e l'illuminazione ma oltre allo stile Kare San Sui che si insediava sempre più all'interno dei monasteri nei giardini invece di residenze e delle persone non legate all'ambiente religioso si andava sempre più a definire un nuovo stile che era quello del roji vale a dire il giardino del tè che nasce proprio in questo periodo e il giardino del tè nasce come idea di andare a trovare un amico in montagna da qualche parte un'eremita per andare ad assaporare una tazza di tè da lui e allora i percorsi sono tendenzialmente sinuosi molto arzigogolati per dare l'idea del passaggio del lento avvicinamento verso la meta è un giardino roji che è molto codificato nei suoi movimenti nei suoi elementi nei suoi spazi nei suoi ritmi è suddiviso anche in due comparti sotto roji uci roji che hanno delle caratteristiche anche proprio funzionali e di godibilità dello spazio differenti uno è uno spazio più godibile da fermo l'altro è l'ultimo passaggio prima di entrare nella casa del tè e qui la pietra serve nella misura di creare l'ambiente naturale vedete che non c'è la pietra che ha qualche simbolo se non quello dell'ambiente naturale arriviamo all'epoca Edo lunghissima mio dirà chi conosce la storia perché sto facendo veramente delle sintesi forse che rasentano la non correttezza ma arriviamo all'epoca Edo e si definiscono degli stili ben precisi nelle grandi ville quale ad esempio Katsurarikyu si viene a definire grazie all'opera di Kobori Enshu quello che è il giardino da passeggio a tutti gli effetti e proprio perché era sempre più di moda il tema del giardino del tè Katsurarikyu non è nient'altro che un pellegrinaggio attraverso molteplici case da tè quindi vedete anche la casa dell'imperatore non c'è il Kare Sansui con la pietra che ha chissà quale significato c'è un paesaggio che evoca degli ambienti degli ambienti noti ad esempio questa lingua di terra agli occhi del giapponese è la baglia di Amanoyashidate quindi un ambiente tipico della natura e della cultura nipponica ma non c'è quel significato intrinseco profondo che possiamo immaginare nella roccia posata su un letto di ghiaia nel medesimo periodo vengono a definirsi le cosiddette residenze dei monaci che si ritirano dall'attività e nel particolare quei monaci con grande cultura soprattutto la cultura cinese che all'epoca era considerata non so perché in questo momento potrebbe anche essere tale ma era considerata come radice pura della cultura e quindi c'è in questo giardino che uscisse il monaco che ha costruito questa casa era un grande conoscitore della lingua cinese e delle poesie classiche cinese aveva un grado di raffinatezza di cultura raffinata molto elevato e probabilmente per natura sua religiosa il giardino prospicente la grande sala è un Kare Sansui ma vedete che è un Kare Sansui che libera l'animo che dialoga con la quinta di aceri che c'è sullo sfondo è un giardino magnifico molto moderno se lo visitiamo perché ha dei salti di quota interessantissimi e delle sorprese di spazi che non si percepiscono dalla sala della fotografia superiore cioè dopo dietro questa questo grande oca ricomi di diazalee c'è in realtà un salto di quota di tre metri che ci porta a questo livello ma dalla sala non lo si percepisce si gode della quinta in autunno spettacolare degli aceri si sente in lontananza il ritmo dello Shishiyodoshi che è presente in questo rigagnolo proprio perché qui sotto c'è la parte della coltivazione agraria dell'orto del monaco ed è un giardino molto molto moderno che in alcuni casi viene anche paragonato a un cottage garden tirando veramente i capelli in una maniera incredibile e sempre più viene a definirsi lo stile Tsuboniwa le città la città cresce le macie sono sempre più evidenti diventa necessario anche un'architettura che strizzi l'occhio da una parte alle tasse quindi riduca lo sviluppo della superficie in affaccio sulla strada a favore di un'architettura che si allunga per mantenere la volumetria e gli ambienti utili per la vita e per il negozio e in questi ambienti lunghi 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 è necessario necessariamente favorire l'arieggiamento e allora in questa struttura lunga 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 si vanno a aprire dei giardini in modo tale che aprendo le porte scorreboli da una stanza all'altra e cambiando l'umidità di un giardino rispetto all'altro semplicemente bagnandolo si creano dei moti convettivi che rinfrescano l'ambiente però vedete che cosa stava andando sempre e stava diventando sempre più di moda nel periodo era il rogi il giardino del tè ed ecco perché la stragrande maggioranza degli Tsuboniwa sono degli stralci dei ritagli di rogi sono degli piccoli zoom su dei particolari elementi o arredi del giardino del tè sono rari gli Tsuboniwa care sansui effettivi sono più che altro ricchi di lanterna di pozzi di ciotsubaki di tsukubai di passi di bivi così come potremmo trovare in un giardino rogi ma perché è ovvio la moda il gusto portava verso quella direzione e negli Tsuboniwa troviamo soprattutto questa presenza arriviamo finalmente a un'epoca moderna l'epoca Meiji quindi a cavallo tra 1800 e 1900 e la storia dell'architettura del giardino individua in questo periodo la rinnovazione una rinascita del giardino giapponese attraverso non più la riproposizione di composizioni stereotipate del rogi all'interno degli Tsuboniwa o i soliti Kare Sansui all'interno dei monasteri ma un riavvicinamento vero alla natura all'ispirazione naturale e il maestro indiscusso di questa transizione è Ogawa GA detto anche Weiji il capace un po' come Capability Browning in Inghilterra è il settimo Ogawa GA di una generazione di Ogawa GA che oggi ancora c'è oggi opera il dodicesimo Ogawa GA a Kyoto ha un'attività è il pro 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 nipote di Weiji ha una sua attività tiene non solo mantiene non solo i giardini che aveva fatto il suo avo ma ne costruisce ma Ogawa GA è veramente colui che ha traghettato il giardino verso un ritorno alla naturalezza e alla creazione di ambienti che veramente danno l'impressione della non presenza del tocco dell'uomo del tocco del progettista con anche quell'ambiente quel trucco di massi volumetrici che dopo vi racconterò quello che vedete è il Murinan questo giardino è un giardino famosissimo è il giardino di Aritomo Yamagata che è stato primo ministro all'epoca dell'imperatore Meiji e in questa casa in questo ambiente c'è una duplice casa quella tradizionale giapponese e poi quella di cultura occidentale sapete bene che il periodo Meiji è un periodo importante per la storia del Giappone perché è il periodo in cui si sono negate alcune tradizioni a fronte di aperture a volte anche spinte obbligate verso usanze occidentali e questo giardino è veramente emblema di tutto ciò in primis per la presenza di queste due case separate unite semplicemente da una tettoia che si affacciano su questo giardino alcuni critici della storia del giardino giapponese leggono anche la presenza di questi prati di queste collinette come un richiamo al giardino paesaggistico inglese forse sì forse no non ho le competenze per evidenziarlo e raccontarlo quello che è certo è che alcuni giardini di Ogawa G.A. e così come questi anche quelli successivi si arricchiscono anche di nuovo di grandi prati di grandi aperture qui siamo invece nelle Yanjingu un tempio shintoista il cui giardino è sempre stato fatto da Ogawa G.A. dove la pietra è utilizzata in modo molto moderno perché a servizio di una idea progettuale che non è quella della natura ma è quella del suono queste pietre che vedete posizionate in questo modo ci permettono e permettono all'acqua di suonare come farebbe in un rigagnolo di montagna e allora sono posizionate evidentemente non in una maniera naturale perché è evidente quando le si guarda che non sono naturali soprattutto quando si è lì sul posto e le si guarda ma la sensazione sonora sì quindi la pietra è sì utilizzata per ricreare il paesaggio ma è anche veramente uno strumento compositivo ma compositivo anche musicale come in questo caso da Ogawa G.A. si apre quello che è considerato il giardino moderno contemporaneo in primis il padre Emirei Shigemori che nel 39 spiazza tutti andando a costruire il giardino del Tofuku-ji in maniera inaspettata perché con rocce posizionate come i niwashi dell'epoca e fino all'epoca Edo avrebbero considerato errata assolutamente da non farsi perché guardate nell'immagine in alto a sinistra posizioni labili non certe non assolutamente piantate nel terreno con certezza ma addirittura pietre che potrebbero risvegliare dei cami negativi risvegliare veramente maledizioni perché pietre orizzontali vengono posizionate in modo verticale ma Mirei Shigemori utilizza gestisce le pietre anche in maniera artistica basti vedere quello che è il giardino sul retro del Tofuguchi che è sempre di duplice interpretazione se richiamo evoluzione di motivi grafici classici del giardino giapponese come può essere il tokonoma che troviamo a Katsura Rikyu oppure richiamo dei quadri di Mondrian coevo più o meno del periodo quindi è sempre stato Mirei Shigemori un'avanguardia sul giardino che ha studiato evidentemente il giardino perché le sue conoscenze sono derivate dallo studio in campo dei giardini a lui si rifà il censimento di tutti i giardini di Kyoto non solo in termini di censimento numerale e nominale ma di rilievo topografico di tutti i giardini lui ha avuto la possibilità di entrare nei giardini misurarli misurare l'altezza delle rocce la dimensione le distanze tra una roccia e l'altra per andare a restituire delle planimetrie a corredo di quella che è stata la prima enciclopedia sui giardini dell'epoca e le sue planimetrie le usiamo ancora oggi studiando il giardino giapponese cioè le sue planimetrie sono ancora quelle che troviamo su molti libri di storia del giardino come censimento quindi lui si è formato così sul giardino lui nasce in realtà come maestro di Chebana e a seguito di una fortunata pubblicazione di un'enciclopedia sull'Eccebana il medesimo editore gli ha chiesto di fare una cosa analoga sul giardino attraverso lo studio il censimento il racconto gli schizzi diciamo lo studio dei giardini esistenti su Fiotto e così si è formato questo è un bellissimo giardino è l'ultimo giardino è tra gli ultimi che ha fatto Nirei Shigemori siamo al Matsuo Taisha è un tempio shintoista dedicato al tè e non poteva che ricreare un giardino storico il Kaiushiki Teien no scusa il Kyukusui Noen il giardino quello che con la barchettina e la tazza di sake in maniera molto moderna con le pietre che sono sì scenografiche ma ricordano e evocano a tutti gli effetti delle figure antropomorfe dei poeti delle persone che assistono a questa festa del giardino questo è effettivamente l'ultimo suo giardino ed è il ritorno all'origine agli wakura questo giardino questo questo tempio secondo lo sguardo di Shigemori mancava di un collegamento con degli wakura esistenti vivi esistenti sulla collina sul retro della montagna questa composizione di Shigemori vuole nella direzionalità di queste rocce captare e richiamare dialogare con gli wakura presenti più distanti sulla montagna e se si leggono gli scritti di Shigemori è interessante leggere come nelle interviste dopo questa questa composizione diceva che era entrato in trance nel senso che la posizione giusta delle rocce gli veniva dettata dalla roccia stessa che gli diceva come doveva essere messa e quindi questo è il suo ultimo legame con veramente con la natura con il kami di ogni singola roccia altro personaggio è Nakane Kinsaku che è di tradizione assoluta niwashi quindi un giardiniere e a lui si rifanno veramente dei giardini in cui diventa difficile capire che è stato fatto dall'uomo sembra veramente che il giardiniere non ha fatto nient'altro che ingentilire con le potature la natura esistente basti vedere questo qua il giardino Yoko En all'interno del Taizoina che è veramente uno scorcio di un fiume in cui la mano dell'uomo si nasconde a differenza delle opere di Shigemaru e ancora non posso che citare quello che è stato un po' il mio mentor il mio maestro nella posa delle rocce nel potare le piante che è Kazuo Makioca che è un giardiniere che ha seguito tantissimi giardini storici il primo fra tutti lì su Yen che vedete in basso ma poi ha fatto veramente tanti lavori anche in giro per l'Europa qua siamo a Helsinki a Gardena dove ha riproposto quel giardino dello scavo archeologico di Dinara che era stato scoperto dal suo maestro Osamu Mori un nome famoso noto per chi si occupa di storia del giardino perché è stato un grande conoscitore un grande studioso dell'arte del giardino tradizionale ed è stato autore veramente di tanti scavi archeologici di Dinara ed è stato il maestro giardiniere di Makioca che omaggiando questo ricordo ha ricreato questo Kare Sansui che poi è anche una vasca di laminazione di raccolta delle acque piovane all'interno di questo di questo giardino a Helsinki finisco questo escursus con Shunmio Masuno che è un monaco è un monaco e di conseguenza utilizza la via della pietra per insegnare e imparare ed è interessante notare l'evoluzione dei suoi lavori e notare come se è vero che all'inizio l'utilizzo della roccia era tal quale negli ultimi lavori sempre più utilizza delle rocce anche lavorate o frutto di cavatori frutto dell'azione della dinamite o del foro che stacca la roccia dall'ambiente dall'ambiente naturale e utilizza questi elementi grafismi questi grafismi come impronta di dialogo tra il cavatore tra l'uomo e la materia roccia ed è interessante come lo utilizzi come materiale poi Shunmio Masone è diventato anche una firma internazionale del landscape quindi è sì Monaco ma ha uno studio di architettura a tutti gli effetti con dipendenti con parcelle stratosferiche pazzesche cioè ha dei cachet all'arenzo piano e oltre ma è un autore assolutamente modernissimo su del giardino giapponese quindi c'è il significato in alcuni giardini la natura mi sento di dire che pressoché c'è sempre ma capiamo meglio questo ritmo questo ritmo è sempre un ritmo legato alla simmetria è sempre quello che potremo citando la tecnica di piantagione degli alberi essere retto dai tre punti che sono Shinso e Tai ma proviamo a capirli la posizione delle rocce è sempre a dei vertici asimmetrici e queste hanno uno sguardo non ho nulla da insegnarmi insegnarvi perché sapete meglio di me come anche i sui secchi guardi e come gli alberi guardino nell'esposizione nel toconoma quindi le rocce guardano e si guardano ma non è che si fissano l'uno con l'altro individuano uno spazio di reciproco sguardo se dobbiamo immaginare le rocce non sono mai uguali perché la simmetria non è solo planimetrica ma è anche volumetrica e nel momento in cui deve comparire o vogliamo mettere una quarta un quarto elemento ebbene non è mai posizionato come lo vedete ovvero non è mai un punto oltre i tre oltre la simmetria perché questo crea degli spazi che sono ritmati da delle coppie numeriche che non sono più quella del 3, 5, 7, 11 e quant'altro se c'è un'altra roccia la roccia è sempre accostata nella proiezione dell'altezza della precedente quando una roccia diciamo che l'unità viene riconosciuta graficamente otticamente nel momento in cui accostiamo questa seconda roccia in uno spazio che è pari entro l'altezza della roccia generatrice se lo mettiamo più lontano come in questo caso ecco che non è più un punto visivo ma diventa un punto di staccato in questo caso romperebbe quel dinamismo di questa tripletta nel momento in cui un punto soprattutto se è scine si evidenzia e quindi in questo caso il punto visivo è uno pur essendo costituito da tre pietre perché vedete costituita all'interno e rientrante all'interno della proiezione dell'altezza della più grande ecco che viene spontaneo bilanciare e ribilanciare il tutto attraverso un'aggiunta a ciò che esso è mentre Tai e pur sempre che vuol dire l'opposto quello di abnegazione rispetto agli altri due può essere sempre l'elemento più piccolino ebbene questa idea di composizione che poi si rende sempre più complessa man mano che aggiungiamo rocce e aggiungiamo trilaterazioni definisce uno spazio uno spazio visivo e il vuoto che molto spesso c'è nel giardino zen nel giardino buddista nel Kare San Sui zen ma che nella composizione di un ambiente naturale è pur sempre presente perché se queste rocce fanno parte di un paesaggio naturale ecco che l'attenzione dello sguardo viene buttata all'interno di quest'area e vi faccio ora vedere se la tecnologia mi assiste e se ho ancora qualche minuto vi faccio vedere un esempio un paio di esempi di giardini andiamo subito al Murinan ok andiamo a a Kyoto datemi solo conferma se vedete che stiamo navigando in giro per il globo e stiamo arrivando a Kyoto vedete che siamo in Giappone no non si vede Francesco neanche adesso che ferma l'immagine no purtroppo no aspetta 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 però metterlo in così dimmi se lo vedi sì adesso sì ok qua siamo a Kyoto tanti sono stati alcuni andranno nella parte sud est c'è un quartiere nato nell'epoca Meggi a seguito di un canale che ha portato l'acqua dal lago Biwa e ha permesso di rendere vivibile anche questa zona della città e qui siamo a casa di Aritomo Yamagata quel giardino fatto da Ogawa GA che vedevamo prima in fotografia e qui è importantissima ed è veramente di insegnamento questa vista che adesso proviamo a vedere eccoci qua allora noi qua siamo allora aspetta eh usciamo usciamo da casa usciamo vediamo se la vediamo da qua allora aspetta eh non riesco a uscire da casa aspetta che esco da Street View e rientro mettate pazienza così ok adesso siamo dovremo ec dai volevo stupirvi con effetti speciali ma non riesco a uscire dalla casa aspetta riproviamo ancora una volta facciamo a ritroso se no cambiamo giardino nessun problema andiamo qui ok adesso ci siamo torniamo un attimo indietro e andiamo a posizionarci qui ovvero dalla vista preferenziale della casa ecco vedete le due case in stile occidentale e in stile orientale quindi rientriamo verso la casa facciamo ancora un passettino ok e adesso giriamo lo sguardo ebbene nella storia della composizione del giardino moderno queste tre pietre una due e tre sono fondamentali nell'inscrivere la scenografia composta da da Ogawa GA se non avesse messo questa pietra probabilmente la nostra attenzione sarebbe scivolata più verso destra ovvero non si sarebbe incentrata l'attenzione verso la sorgente ecco questi sono quei punti volumetrici che sempre più da Ogawa GA in poi sono utilizzati per definire lo sguardo del nostro visitatore ovvero il compositore del giardino il creatore di giardino sceglie dove far guardare il l'ospite il proprietario i visitatori attraverso l'utilizzo veramente di queste pietre di questi volumi che rientrano sì in uno scenario naturale perché sembrano delle pietre che emergono da queste collinette da queste radure ma sono posizionate in relazione al loro peso volumetrico per poter inquadrare il lo sguardo andiamo ora all'U Li Sui En Li Sui En e a Nara e li ci spostiamo non siamo lontanissimi dal Todai Ji dal grande tempio del grande Buddha è un giardino Li Sui En che è un giardino da passeggio a tutti gli effetti anche lui dell'inizio del Novecento e qui troviamo guardiamo di nuovo veniamo qua questo è un giardino famosissimo per lo Shakkei qui è veramente il vero Shakkei giapponese l'Ikedori cioè il cartire il cuore l'animo del paesaggio retrostante io ho avuto la fortuna di lavorare in questo giardino in occasione del grande restauro naturalmente non ho fatto nulla del restauro io pulivo il muschio pulivo il bambù e finiva lì ma è stato bello vedere come questa collinetta prima occupata da molti alberi che erano cresciuti a dismisura e quindi negavano il dialogo con Iwasuka la collina di Nara retrostante quella pelata la crescita di questi alberi aveva in una certa maniera reso muto lo shaké il dialogo con il paesaggio il grande restauro che è stato fatto nel 2000 era il 2007 8 9 più o meno in quegli anni era principalmente consistito nel taglio di questi aldari per poter restituire un dialogo con le due colline ovvero allargare lo spazio e accorgerci di quello che era stato il gesto generatore e progettuale del creatore di questo giardino che aveva introdotto queste collinette inerbite proprio in relazione all'esistenza della collina retrostante per allargare e unire il paesaggio ebbene qui siamo all'uscita vediamo qua eccoci qua ok veniamo qui proviamo qua sì qui vediamo che giriamo la testa vediamo queste sono molto di moda nel periodo Edo e poi vengono anche riutilizzate nel periodo Meiji sono i vecchi basamenti di templi sono delle rocce che sono state lavorate per poter far appoggiare i grandi pilastri linei e molto spesso nell'epoca Edo in relazione alle dimensioni venivano utilizzate come pietre bivio all'interno dei percorsi soprattutto del rogi del giardino del tè che si arricchiva molto di materiali utilizzati storici con altri fini e qui vediamo di nuovo un ritmo a tre uno due e tre uscendo abbiamo la vista su questa direzione ed è interessante questo lo faceva ben notare Macchioca nei suoi racconti del giardino come anche arrivando da da questo percorso e quindi posizionandoci più o meno all'uscita della sala del tre ecco che avevamo questa tripletta di rocce che incorniciava il portale d'ingresso del Todaigi e questi immaginatevi lui diceva immaginate che ci siano ancora le colonne proiettate in verticale le colonne ed ecco che il nostro scenario la nostra immagine è ritratta guardiamo ancora un giardino che c'è a fianco e il non mi ricordo mai il nome ma adesso mi viene in mente un altro giardino magnifico che c'è qui a fianco questo qui è il Li Su Yen ecco che qua eccolo qua adesso vi dico anche come si chiama qui c'è l'utilizzo delle rocce in un'altra maniera diciamo simile al giodo al giodo style allo stile giodo del del tempio perché vedete una lanterna giù in fondo che dialoga con la nostra casa non possiamo ora entrare con street view qui dentro ma se immaginiamo di essere nella sala principale aprire i shoji e guardare il giardino ci accorgeremo che la nostra vista è richiamata da questa grande roccia orizzontale che si adagia sul prato che come dire ospita il rimbalzo del nostro sguardo verso questa lanterna stessa cosa se andiamo se andiamo giù alla lanterna quindi siamo andato troppo giù esce da street view ma mi avrete capito oramai qual è l'intento se andiamo dove c'è la lanterna e guardiamo dietro lo capite ancora meglio vediamo se abbiamo avuto la fortuna e siamo finiti dietro la lanterna o sì vedete che c'è una connessione rettilinea un po' come nel giodo style nello stile giodo la connessione tra pagoda e casa della preghiera qua non c'è nulla verità nessuna verità religiosa ma c'è lo stesso strumento di connessione nel giodo style del Yorulji vi ricordate che c'erano quelle pietre al centro del lago che ci permettevano di adagiare lo sguardo per vederlo rimbalzato sopra l'ultima lanterna ok quindi mi riconnetto alla presentazione e sulla base di queste diciamo di queste funzioni vi faccio vedere due lavoretti ma proprio due lavoretti che si basano su questa idea della naturalezza della riproposizione della natura e delle pietre come elementi volumetrici nella composizione il primo è un Kare Sansui assolutamente lontano dall'ambiente naturale c'era stato commissionato in una palestra quindi doveva immaginate tranquillizzare chi sta facendo stretching e quindi l'idea del proprietario era quello di fare un giardino giapponese e in questo spazio che è totalmente innaturale perché vedete il prato è finto questi cumuli di terra sono questo qua è a Kadama resinata ma è a tutti gli effetti un percorso d'acqua abbiamo cercato di dare dinamismo perché la stanza poi prosegue sulla destra e quindi c'è un percorso di acqua questa roccia ritengo nella composizione fondamentale perché va controcorrente e ci ributta l'attenzione verso il centro della scena che è l'uscita di questo percorso dalla reception quindi qui dietro è nascosta la reception quindi c'è un percorso a sorpresa che attraverso questo ponticello ci porta in questo ambiente naturale e questa pietra la ritengo importante perché è un punto volumetrico che serve per diminuire rallentare il corso veloce dell'acqua e di conseguenza lo sguardo rimane ancora all'interno la vedete qua di scorcio sulla destra i tre punti ovviamente sono la sorgente lo tsukubai e la pietra che abbiamo visto e qui dentro si risolve lo scenario e poi un ambiente con diciamo di sicuro delle scelte anche tecniche e di finitura che rasentano il kitsch perché ci sono led per la visione notturna c'è la nebbiolina che esce a tempo e nella nebbiolina ci sono anche le fragranze e gli oli per far rilassare le persone che fanno stretching ma spento dei led e privo di queste nebbioline fantasmagoriche l'idea è quella di un corso d'acqua con le rocce posizionate come potrebbero apparire in un ambiente naturale ovvero a sponda di un cambio di direzione come potrebbero essere questi piccoli greti in corrispondenza dell'anse interna del fiume e la bc della posa delle rocce e qui ancora l'altro scorcio e poi ancora un altro progetto un po' più articolato che è una sorta di rogi moderno perché è un percorso che ci porta non tanto a bere il tè ma andare a mangiare attraverso però un momento di attesa dove si sta nel in attesa che il padrone di casa ci dica è pronto e quindi possiamo raggiungere non la sala del tè ma la sala del pasto questo giardino che nei suoi tematismi perché doveva essere ricco di tematismi quasi enciclopedico nella volontà del proprietario comunque nel darci carta bianca su tutto ciò che il giardino giapponese potesse offrire avevamo organizzato anche all'interno del percorso del progettuale un Kare Sansui progettato all'inizio non sapendo ancora bene come realizzarlo con una sorta di ritmo a tre ora questo giardino è definito e nominato il giardino oltre perché abbiamo progettato tanti setti tanti muri che possono suddividere ulteriormente lo spazio un ambiente molto moderno perché l'architettura della villa lo richiedeva abbiamo utilizzato le stesse finiture della villa per creare questi muri di divisione e a un certo punto questo muro nella nostra idea doveva avere un'apertura una finestra in modo tale da far dialogare il Kare Sansui con il paesaggio retrostante perché in un gioco tecnologico iper mega tecnologico questo Kare Sansui doveva potersi riempire d'acqua a un livello d'acqua identico a quello del laghetto retrostante e quindi connettersi visivamente anche come piano d'acqua e la composizione è retta dalla triade di nuovo con la grande pietra con la lanterna sullo sfondo oltre questa composizione e quest'altra pietra ora quando siamo andati alla ricerca delle rocce perché se c'è un qualche cosa che accomuna le rocce del giardino con i sui secchi e che si cercano e quindi si va anche alla ricerca delle rocce per il giardino quando siamo andati in cava guarda guarda scopri scopri fai spostare con le draghe matasse cioè cataste di grandi rocce vedo questa pietra che mi ricorda una barca una funagata ishi e allora veloce veloce su un post-it mando uno schizzo al cliente e gli dico ma senti invece di andare a fare chissà che cosa cioè andare a fare una triade buddista perché poi alla fine tu sei cristiano ma che te ne fai di un Kare Sansui che ha la triade lì in mezzo poi se vuoi te la facciamo però ho trovato abbiamo trovato questa gran bella barca che potrebbe anche avere un bel racconto all'interno del tuo Kare Sansui perché alla fine essendo il tuo giardino nato come nome il giardino oltre ecco che questa è la barca nel Kare Sansui e troviamo questa barca che ti immagini di utilizzare di salirci sopra per poter essere traghettato verso il mondo altrove cioè quell'idea di Giappone che tu hai non sei mai stato in Giappone dietro questa finestra c'è quell'idea quel desiderio di arrivare in Giappone ebbene la barca è di buon auspicio ti traghetterà prima o poi verso il giardino verso il Giappone e allora in tal senso il giardino e la pietra ha un significato le pietre si scelgono ahimè a volte bisogna anche tagliarle purtroppo perché perché tecnicamente non si può che fare così con delle soluzioni tecniche o quando siamo su soletta di un verde pensile e dobbiamo poggiarla caspiterina dispiace ma bisogna tagliarla perché non abbiamo spazio per poter gestire la pietra effettiva e quindi qua vedete alcune rocce scelte e tagliate ed eccoci qua in fase di posa quindi sono pietre perché questo è un paesaggio evidentemente molto moderno lo vedrete poi finito ma dove abbiamo ritenuto fondamentale basarci comunque su quella punteggiatura tre che vi ho accennato prima ed ecco quindi le uniche tre pietre grosse di questo di questo laghetto e questa in particolare è la roccia su cui poi trova collocazione una bella lanterna che è quella che si intravede attraverso quella finestra e qui vedete la pietra barca la Funagata Ishi posizionata che punta come sguardo verso la pietra che si sta posando e questa è la parte del laghetto vedete le tre pietre che dovrebbero mantenere l'attenzione verso questo scenario o comunque questa dovrebbe limitare la voglia di allargare lo sguardo verso sinistra quindi dovrebbe essere perlomeno un punto di stop per guardare lo scenario e poi certo accorderci di questa di questa finestra questo è il Kare Sansui in fase di adacquamento che si sta caricando d'acqua vedete che man mano che si carica d'acqua arriva il livello a quello che vedete sullo sfondo qui siamo ancora in una fase di cantiere vi faccio vedere un giardino che non è ancora assolutamente finito si sta completando mancano ancora delle parti qui stiamo valutando e correggendo anche l'altezza della ghiaia quello che di sicuro mi è venuto ci è venuto in mente come idea per bilanciare ancora più la tripletta è che così come c'è nel Dai Senghimi quel cono quel cono di ghiaia o quei due coni di ghiaia nell'oceano probabilmente lasceremo ancora un cumulo di ghiaia che non si copre dall'acqua da questa parte ma principalmente per bilanciare la composizione senza questo cumulo la composizione scivolerebbe sulla sinistra e allora sto ancora valutando e stiamo valutando se qui mettere una pietra come se fosse un'isola un qualche cosa da cui che non è coperta dall'acqua o se utilizzare il cono d'acqua il cono di ghiaia che non si bagna dall'acqua quindi questo questo velo dovrebbe essere il livello dell'acqua che viene raggiunto qui non viene raggiunto per motivi tecnici nel senso che ci sono tutti i pozzetti di spezione quindi ovviamente l'acqua non può arrivare e a tutti gli effetti un roji perché nel percorso a un certo punto c'è anche il koshika che vedete iper mega moderno quindi non ha niente a che vedere con la costruzione classica dell'architettura giapponese se non la proporzione della falda e di come la luce entra in questa in questo involucro qui siamo in un ambiente in cui la falda è molto molto bassa quindi la nostra pupilla si dilata perché osserviamo il giardino da un ambiente ombroso e osservando il giardino da un ambiente ombroso la nostra pupilla si dilata e percepisce più vividi il colore quindi c'è questa idea ma non c'è l'architettura classica del koshikake l'ambiente è quello della macchia mediterranea quindi quello che abbiamo ricreato è la macchia mediterranea con poche poche rocce ci sono ce ne sono quella oltre quelle dei camminamenti ma perché l'evocazione data era di un ambiente che non fosse così ricco di rocce ci sono ma nella giusta misura quindi non è detto che il tanto è sempre necessario nella composizione e poi alcuni capitoli del giardino con anche rivisitazioni un po' di ambienti classici del giardino e niente questo è quello che volevo approfondire con voi sul tema delle rocce all'interno del giardino quindi sono a vostra disposizione chiedo scusa se sono andato un po' lungo mi sa che mi sono fatto un po' trascinare chiedo scusa grazie grazie Francesco è stato molto bello veramente bellissimo a me è piaciuto tanto il tuo intervento è stato bellissimo come quello del professor Tollini sono stati due interventi molto interessanti e molto secondo me anche utili per comprendere l'importanza delle rocce nel nostro anche nel nostro mondo nel mondo del sui secchi e nel mondo del bonsai sul sui secchi penso che sia quasi superfluo come dire sviluppare questa cosa cioè pensiamo a quello che ha detto il professor Tollini cioè l'importanza della montagna il fatto di poter tenere una montagna in mano è una cosa straordinaria già questo nel mondo del sui secchi ma anche nel mondo del giardino che tutti noi in qualche modo viviamo se no magari in prima persona ma di riflesso perché tutti i bonsai hanno più o meno un piccolo grande giardino e quindi già questo ha una sua importanza ma poi il mondo delle pietre nel mondo del bonsai è importantissimo per la questione degli shizuki cioè il rapporto tra gli alberi e le rocce intesi come paesaggio in una roccia e alcuni punti che tu hai toccato sono estremamente interessanti proprio per definire in qualche modo la composizione su una roccia questo sarebbe un tema anche molto interessante da poter sviluppare quindi io vi ringrazio tanto per quello che questa sera ci avete insegnato e ci avete regalato e lascio un po' di spazio a a chi vuole fare qualche domanda qualche considerazione grazie ancora ma siamo qua io ne ho una quando partiamo? per dove? in Giappone ovviamente domani domani insieme a Francesca e al professor Tullini pensavo pensavo partiamo? io spero di andare in autunno io spero in autunno di poter andare a vedere che bellissimo viaggio che ci avete fatto fare grazie davvero confermo una mitragliata di informazioni che ci vorrà qualche giorno per girirte penso però bello grazie a tutti